Siano lodati Gesù e Maria Cari fratelli e sorelle, quest'oggi prendiamo spunto per la nostra meditazione dalla prima lettura San Giovanni scrive Carissimi, amiamoci gli uni gli altri perché l'amore è da Dio Chiunque ama è stato generato da Dio e conosce Dio Chi non ama non ha conosciuto Dio perché Dio è amore In questo breve brano è presente una piccola frase Piccola ma di fondamentale importanza Dio è amore In questa piccola frase è racchiuso il mistero di Dio uno e trino Dio è trino proprio perché è amore Infatti si può parlare di amore soltanto dove c'è una comunione di persone Il padre ama il figlio, il figlio ama il padre E lo Spirito Santo è l'amore reciproco tra il padre e il figlio E Dio è uno proprio perché è amore L'amore in Dio è talmente perfetto che di tre persone vi è l'unico solo Dio L'amore unisce in una cosa sola E l'essere umano creato ad immagine e somiglianza di Dio deve riflettere il mistero dell'amore di Dio Ecco dunque la famiglia Una comunione di persone riunita nell'amore Dei primi cristiani è scritto che erano un cuor solo e un'anima sola Ecco dunque il precetto della carità Dobbiamo amarci perché siamo chiamati a riflettere il mistero del Dio trino ed uno Quanto più l'essere umano ama Tanto più somiglia a Dio suo creatore Normalmente si dice che quanto più si conosce Tanto più si ama Infatti non si può amare una persona che non conosciamo O che conosciamo molto poco Quanto più la conosceremo Tanto più la ameremo Questo è certamente validissimo Ma a un certo punto del cammino spirituale è vero il contrario Quanto più si ama Tanto più si conosce È l'amore che apre il nostro cuore a una conoscenza più profonda Alla conoscenza diciamo così contemplativa Ecco che l'Apostolo San Giovanni nella prima lettura di oggi dice così Chiunque ama è stato generato da Dio e conosce Dio Chi non ama non ha conosciuto Dio perché Dio è amore Dunque quanto più ameremo Dio Tanto più lo conosceremo E questo vale soprattutto quando il cristiano Oltrepassa la soglia della contemplazione La contemplazione si può definire una conoscenza più profonda Una conoscenza superiore Una conoscenza infusa Una luce che viene dall'alto E quanto più ameremo Dio Tanto più attireremo nel nostro cuore e nella nostra mente Questa luce superiore Questa luce contemplativa E questo amore soprannaturale Si conosce per così dire per connaturalità Ovvero solo il simile conosce il simile Solo chi ama conosce Dio che amore Santa Teresa d'Avila insegnava che In un attimo solo di questa luce che viene dall'alto Di questa luce contemplativa Si conosce di Dio Molto di più di quello che si potrebbe conoscere In anni interi di studi e riflessioni personali Ci sono dunque due tipi di conoscenza C'è la conoscenza acquisita Ed è quella che noi otteniamo con lo studio Con la lettura Con la riflessione E c'è la conoscenza contemplativa Quella che viene dall'alto Quella che soltanto Dio può concedere Noi con i nostri sforzi Riusciremo soltanto ad avere una conoscenza acquisita Quindi lenta e laboriosa Se Dio vuole E quando Dio vuole Riceveremo la conoscenza che viene dall'alto E allora in un attimo solo Conosceremo di Dio Molto meglio di quanto potremmo ottenere personalmente Domandiamoci ora A chi inoltre Dio dona questa conoscenza infusa? La dona agli umili di cuore Quanto più saremo umili Tanto più conosceremo Dio Infatti Gesù nel Vangelo dice Ti rendo lode, Padre Perché hai tenuto nascoste queste cose ai sapienti e agli intelligenti E le hai rivelate ai piccoli Ecco dunque la seconda condizione necessaria Per avere il dono della contemplazione L'umiltà di cuore Dunque per concludere questa nostra meditazione Dobbiamo essere umili e amare con tutto il nostro cuore Così conosceremo sempre di più Dio Concretamente raggiungeremo questo ideale di vita Con l'incessante atto d'amore Ogni battito del nostro cuore deve diventare un atto d'amore a Dio E lo raggiungeremo riconoscendo con serenità e fiducia Tutta la nostra piccolezza e la nostra debolezza Infine San Giovanni Apostolo afferma In questo sta l'amore Non siamo stati noi ad amare Dio Ma è Lui che ha amato noi E ha mandato il suo figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati Ecco dunque il mistero del Natale In quel piccolo bambino che vagisce nella mangiatoia Noi vediamo l'immenso amore di Dio per l'umanità Se Dio non si fosse fatto bambino Noi avremmo conosciuto sì la potenza di Dio Ma non la sua infinita bontà per noi peccatori È questa la grande lezione del Natale Lezione che San Francesco d'Assisi comprese fino in fondo E per la quale piangeva lacrime di commozione Siano lodati Gesù e Maria Siano lodati Gesù e Maria